ciao gente sono tommy cuti e benvenuti ad una nuovissima puntata di 2g rap ciao a tutti sono rebecca cazzadi e siamo ancora qua alla quarta puntata che cos'è 2g rap 2g rap è un viaggio all'interno della musica delle seconde generazioni oggi questo viaggio sarà molto storico perché abbiamo deciso di fare una puntata speciale dedicata all'usanza un po che viene dal mondo anglosassone del black history month e la nostra rebecca qua può spiegarci in che cosa consiste il black history month allora inizierò a farvi una breve panoramica di che cos'è il black history month oppure altrimenti chiamato african american history month ovvero sostanzialmente è il mese dedicato alla celebrazione della storia degli afroamericani nasce più o meno nel 1926 però inizialmente è sostanzialmente una settimana che cade nel mese di febbraio ed è proprio precisamente in coincomitanza con la data di nascita di due personaggi molto importanti giuro che queste cose non le sapevo e ho vissuto in america per due anni e chi sono questi due personaggi molto importanti allora uno è abram lincoln il presidente il sedicesimo presidente e l'altro è si chiama me lo so scritto perché sono fredrick douglas questo personaggio davvero importantissimo per la storia degli afroamericani perché lui nasce schiavo tenta di fuggire due volte alla terza volta riesce a salire su un treno travestito da marinaio con dei documenti che gli vengono dati da un marinaio libero e da lì inizia la sua carriera come politico come editore come scrittore e soprattutto come abolizionista quindi lui è proprio un personaggio molto importante per la storia afroamericana wow grazie rebecca per questi cenni storici wikipedieschi e quindi qui inizia un pochino cioè inizialmente appunto era una black history week più avanti poi vedremo come da week siamo passati a mondo interessante io vorrei cogliere l'occasione di questo mese particolare dove si celebra l'eccellenza nere in tutto il mondo per raccontare quello che è successo nella scena hip hop italiana no perché chiaramente a volte persino persone come me o anche ragazzini giovani che se ascoltano un rap italiano possono immaginare che recentemente siano immersi dei nuovi rapper di seconda di seconda generazione quando in realtà io ho avuto modo di scoprire che c'è sempre stata un'integrazione tra i ragazzi di seconda generazione che avevano abitato in italia e la scena che è nata soprattutto agli inizi agli albori infatti l'anno scorso ho avuto modo di conoscere questo personaggio qua che si chiama drey love l'ho conosciuto a firenze è un rapper di origini americane che è venuto ad abitare in italia durante gli anni gli anni 90 no quando la scena rap italiana stava facendo quella transizione dalle posse le chiamavano perché il rap era tutto principalmente nei centri sociali fino al momento in cui si è passati ai primi dischi dei sangue misto e tutto quanto lui mi ha parlato di come l'influenza dei turisti degli studenti americani dei ragazzi di seconda generazione di seconda generazione è stata incredibilmente indispensabile per realizzare la scena rap italiana e la cosa mi ha stupito quindi ho voluto che lui mi mandasse un contributo audio e ora lo sentiremo questo è drey love c'era questa diciamo momento del una cosa si chiama posse e posse in america diciamo che era una forma più o meno hip hop di gruppi numerosi di mc e comunque questa storia della posse si è traslocato in italia ho avuto su inizi diciamo qui all'inizio della storia di hip hop in cui c'erano molti gruppi con numerosi mc che oggi giorno quelli mc che hanno fatto parte del gruppo di questi gruppi ora hanno loro carriere più o meno da solisti ho buttato l'isla post di all stars che comunque sono inizie di neffa inizie di graf inizie di deda inizie di tanti personaggi storici poi ho messo il fucking flying camels che c'è un fratello che si chiama yaret che è una delle prime persone di colore presente nella scena tramite bologna sempre yaret e poi abbiamo diciamo sol boy che era un ragazzo caribico che era presente a bologna era più o meno e è sempre il diciamo il guru in cui non si parla della storia hip hop minimamente a bologna si chiama adam sol boy come ho detto prima poi che ti devo dire ho messo mio vecchio gruppo radical staff in cui all'inizio di radical staff c'era un ragazzo credo caribico anche lui mezzo americano che si chiama top cat e poi c'è fratello sean che appartiene da sud africa e niente però che ti devo dire ci sono un sacco di persone diciamo della diaspora africana che hanno partecipato nell'inizio di di questo movimento diciamo seconda generazione comunque chiaramente ha permesso di più questo atto in cui partecipo io partecipa un signore che si chiama nestle di creditorino svitra partecipa gruppo di roma che si chiama negri di roma partecipa un sacco un sacco di persone che non hanno anche fatti dischi però loro diciamo rimanente in italia hanno effettuato certe persone c'è un signore che si chiama mohammed mohammed è diciamo un afro americano che è nato nei bronx sarebbe il nipoti di africa bambada addirittura e comunque lui ha partecipato tanto nell'inizio seguendo delle persone e comunque aprendo poi dopo realtà commerciale in base al mercato hip hop qui e poi ha fatto tanti serate e eventi in riguardo alla cultura io e questo era dre love a me della sua ricostruzione della sua testimonianza mi diverte che ha citato vari nomi di persone che poi io dopo ho scoperto conoscere tipo quando lui parla di mohammed no è una persona qua di milano che ora gestisce quel negozio di vestiti che si chiama uptown e ha gestito molte serate hip hop che hanno permesso a molti rapper della scena degli anni 90 di conoscere questa musica qua e alla fine ora mohammed io sono ancora in buoni rapporti di lui mohammed è il padre di malchigi ah allora sì tutto chiaro ok è tutto chiaro quindi sì oh ci tornerai a sentire una delle tracce in cui canta dre love insieme a neffa ok che è uscita intorno al 96 giusto per sentire che mix usciva quando era la roba americana mischiata alla roba italiana io e questa questa era puoi sentire il funk neffa featuring dre love tu che mi dici di questi mix del rap italiano negli anni 90 ma posso dire che mi piace un sacco vabbè è un po scontato però mi piace questa commistione un pochino tra lo stile di neffa viene fuori un bellissimo mix ma alla fine io penso che veramente dai mix possano uscire proprio delle delle cose meravigliose è interessante questa cosa qua che hai detto perché io per prepararmi a questa puntata ho fatto un sacco di ricerca ho parlato a vari dei miei amici rapper tipo parlavo ad in occhi no proprio due giorni fa e mi spiegava che secondo lui negli anni 90 c'era proprio maggiormente più scambio tra le persone che facevano questa musica qua in italia che avveniva un vero scambio nel senso che cioè le persone africane o americane così si scambiavano proprio a livello culturale delle idee cioè dei modi di fare dei modi di essere e paradossalmente c'era più integrazione infatti quando tu rivedi questi video qua vecchi sembra che siamo nel passato ma siamo nel futuro mi dà molto questo effetto qua perché vedo wow cioè quello è ciò di cui noi ci immaginiamo che accada adesso cioè che ci siano questi scambi culturali no con le mie ricerche io volevo sapere cosa accadeva nell'hip hop italiano da prima che io cominciassi ad ascoltarlo perché io ho incominciato ad ascoltarlo quando avevo 14 anni tipo nel 2003 2004 così e c'è una persona che mi ha che mi hanno consigliato moltissime persone che si chiama DJ Lugi che ha fatto parte di questo disco qua storico di fritz dacat devi sapere che se non sbaglio nel 99 è uscito questo disco di fritz dacat chiamato 950 e per molti della scena rap italiana è considerato un classico un mostro sacro di questa scena infatti da questo disco qua ci sono un sacco di è di hit che poi sono diventati pezzi classici del rap italiano e tra questi c'è questo pezzo qua di fritz dacat chiamato in luci che a quanto pare un rapper e non sbaglio di origine africana potrebbe essere utiope orietria non sono sicuro perdonami se mi sto sbagliando però fatto stai che uno come noi che faceva san rap ed era inserito perfettamente nella scena nel 99 quindi lui nato in italia è nato in italia è nato in italia sentiamo fritz dacat chiamato e questo era DJ Lugi tu che mi dici posso dire puoi dire secondo me questa è la dimostrazione per i rapper di oggi non tutti alcuni che non c'è bisogno di dire tette sedere mi faccio la tua tipa e io spacco sono in zona per fare qualcosa che veramente spacchi perché vabbè al momento ne abbiamo ascoltate due che però parlano di un sacco di cose toccano temi diversi e non è diversi però capito cioè dalla prima canzone che mi ha fatto ascoltare alla seconda ci sono totalmente temi diversi trattano di cose diverse no infatti ti dirò una cosa che a me ha stupito facendo questa ricerca è che paradossalmente questi artisti qua che sono cioè che spaccavano che facevano la loro roba tempo fa erano oggettivamente è brutto dire non voglio essere un boomer scusate non voglio dire era meglio prima però erano oggettivamente più creativi cioè proprio anche a livello di rap cioè gli incastri tutta questa roba qua erano veramente veramente originali sì ma secondo me la creatività e l'originalità è anche dovuta al fatto del mix no nel senso io ti do tu mi dai e quindi si crea qualcosa mentre ad oggi mi sembra che spesso non sempre ci sia io sto nel mio tu stai nel tuo se non ci si incontra è vero è interessante questa cosa qua che hai detto perché effettivamente fa immergere il discorso che a quei tempi si parlava sempre di mega crew cioè di posse di la mia crew e facevano sti dischi qua tutti insieme tipo c'era tutta questa cosa qua della scena di cui facevano parte un sacco di persone si beccavano c'erano le jam ed effettivamente diverso da adesso che è una cosa singola tipo ecco venerdì esce il mio disco il mio singolo dopo luna andatevelo ascoltare però è il mio capito sì 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 è totalmente diverso sarà un livello di rappresentanza diversa comunque volevo dire questa cosa qua faccio un piccolo mia colpa no tipo io nel 2018 quando ero con gli universo ho fatto uscire sta canzone intitolata al disco di tommy e ho detto sono primo rapper nero di sto cazzo di stivale e facevo questo discorso qua e confesso che facevo questo discorso qua perché paradossalmente io non sapevo di un certo passato che aveva avuto l'italia di come ci sono ci possono essere state delle persone come me nate crescute in italia di origini straniere che facevano attivamente parte della scena e purtroppo col passare del tempo ho conosciuto un sacco di persone mi sono dovuto ricredere ed è stata un'esperienza nuova scoprire queste persone qua un gruppo che ho scoperto è questo gruppo qua che si chiamano i negri di roma è quello di cui parlava prima di loro tra l'altro a me diverte che tutte le persone che ho intervistato cioè che al quale ho parlato per preparare questa puntata più o meno mi hanno consigliato queste stesse persone qua che sono quasi dei punti saldi infatti del gruppo negri di roma mi sono fatto mandare un contributo da diamante che è un rapper che conosco che ora vogliamo sentire e poi sentiamo subito la canzone negri di roma partenza indelebile inchiostro è il frutto del desiderio di un po di persone di fare un disco che rappresentasse e che racchiudesse tutti i talenti neri del rap a roma perché c'era un sacco di gente che non solo ascoltava rap ma lo sapeva fare amava farlo e lo faceva spesso quindi abbiamo ci siamo messi fra amici ed eravamo tutti misti tutti di altri paesi molti avevano già un figlio a vent'anni rappresentavamo proprio il flaminio in quel periodo piazzale flaminio e la nostra individualità personale che che era rappresentava diverse nazioni diciamo io brasilia io brasile poi c'era capoverde nigeria c'era molto molto eritrea molta etiopia vescià e ancora nigeria e amici dall'america e amici soprattutto di roma del ronzu che spaccavano insieme a noi in quel periodo quindi quel disco noi ci siamo voluti chiamare negri di roma come titolo dell'album proprio per essere provocatori nel senso di per un periodo storico in cui quella parola lì veniva utilizzata solamente come insulto nei nostri confronti noi ci ci chiamavamo così anche in quel periodo e in un certo senso era anche per sfatare un mito e per dire cavolo ci siamo anche noi facciamo il rap in italiano e spacchiamo in italiano forti di tutti i fratelloni francesi francofoni nigeriani che ci sostenevano ci davano una mano ci ispiravano ci facevano sentire la musica i dischi i vinili e quindi diciamo che negri de roma l'album di indelebile inchiostro del 2000 è uscito nel 2001 è proprio la somma del di quel periodo di un periodo di piazzale flaminio in cui in cui sentivamo bisogno di avere una rappresentanza di neri che rapassero in italiano e spaccassero io e questa era la partenza un altro pezzo molto underground però cioè con belle rive a me piaceva questo mood qua sai prima mentre parlavi stavo riflettendo su una cosa tu hai detto che nel disco di tom mi hai detto sono il primo rapper nero di esatto e perché semplicemente in realtà non conoscevamo no non sapevamo di tutto quello che in realtà negli anni 90 stava succedendo in italia anche a livello delle seconde generazioni no ed è un pochino quello che negli anni 20 in america ha portato poi alla nascita della della inizialmente black history week e poi black history month perché carter j woodstone che è lo storico che ha portato poi alla nascita del black history month disse una cosa disse che sostanzialmente i neri non erano istruiti non erano a conoscenza della loro storia quindi loro sapevano all'epoca soltanto quello che non dovevano fare in quanto schiavi ma non sapevano la loro storia non sapevano le loro radici e in un certo senso mi sento di dire che è un pochino quello che può succedere nella musica no tu non sai quello che c'è stato prima quello che è successo negli anni 90 nei primi anni 2000 e quindi arrivi nel 2020 che hai anche una consapevolezza diversa no totalmente totalmente poi a me diverte che nell'audio di prima che diceva diamante diceva eh c'erano i fratelli più grandi che i francesi nigeriani che ci davano ci facevano non sentire la musica così io purtroppo a volte la sensazione che quasi la mia generazione si è entrata nella musica da sola cioè senza dei punti di riferimento io ero da solo nel mio paesino a provare imparare questa roba qua del rap italiano no poi chiaramente col passare del tempo ho raccolto i pezzi sto imparando quello che accade cioè quello che accadeva nel passato però ora passando alla prossima canzone poi mi viene da dire che sono un ipocrita sono un bugiardo quando dico che non ho non avevo mai visto un rapper nero perché senti questa la prima volta che io ho sentito dire eh la parola freestyle ok che ho visto qualcuno mettersi a fare freestyle nella mia vita è stata vedendo amici eh come si chiamava amici di Maria De Filippi si chiamava già a quei tempi non mi dimenticherò mai questa scena di Maria De Filippi che va da questo rapper qua che si chiama Michael Calandra e gli dice eh fammi un po' di freestyle e lui si alza e si mette lì a fare freestyle però io avevo 12-13 anni e mi dicevo ma cos'è sta roba qua del freestyle e non l'ho subito connessa come una cosa che è l'hip hop che è il rap e tutto quanto semplicemente vedevo amici ho detto wow bella cosa la cosa del freestyle c'era sto ragazzo nero mi ricordo aveva i capelli rossi ma non è quando si chiama ma forse è la prima edizione che si chiamava ancora saranno famosi può essere sì ho presente che poi lui ha rifatto anche no woman no cry esattamente questo Michael Calandra faceva parte di un gruppo del rap italiano che si chiamava la squadra e nel lontano quando era 2004 2005 hanno fatto un disco intitolato punto di fuga a me dispiace che questo disco qua magari i ragazzi delle generazioni d'oggi non lo possono magari non lo conoscono perché secondo me può può essere molto d'ispirazione sia a livello di sound sia a livello di temi trattati in generale ok sentiti una canzone di questo punto di fuga si chiama fuggiamo sentito la fuggiamo fuggiamo questa era la squadra mai sentito che sound cioè quando sento sta canzone dico ma perché non erano ricchissimi e famosi in tutta italia e non riempivano gli stadi perché questa roba qua mi sembra proprio originale cioè in concomitanza in francia succedeva roba che la gente che faceva questo tipo di musica davvero riempiva gli stadi mi era triste che l'italia non abbia avuto quella fase lì sì ma secondo me anche perché comunque i due paesi hanno storie diverse quello che dico sempre che comunque in francia siamo adesso alla terza quarta generazione qua in italia siamo alla seconda generazione magari si spera i nostri nipoti speriamo no perché giuro quando sento sta canzone sento questo moon l'originalità quanto è toccante dico damn sì vorrei che questa che magari i ragazzi che crescono oggi possono ispirarsi a questa roba qua e non solo alla roba francese americana così il prossimo pezzo che sentiremo anche questo sono ipocrita per la seconda volta forse quando io dicevo sono il primo rapper nero di sto cazzo di stivale pensavo figlio sto facendo dei pezzi con fabbri fibra sono in un disco in major e quindi non avevo mai visto qualcuno a questo livello però io confesso che nel 2006 mi è capitato di vedere il video di questo rapper qua si chiama nestra tra l'altro l'ha citato anche drey love prima un ragazzo della svizzera che quando io mi ero appena appassionato all'hipop italiano aveva un paio di video che erano veramente cool e io mi ricordo questo video qua intitolato non sono neutrale e parla di una persona che è stata uccisa ingiustamente dalla polizia svizzera ha fatto una canzone intitolata non sono neutrale e mi ricordo che avevo 15 16 anni e mi aveva colpito mi aveva appassionato sto rete e non sono neutrale rebecca ero con me ero commosso nel vederti ascoltare questa canzone qua perché vedevo che eri lì tipo che muovevi la testa ed eri toccata sì sei commossa perché davvero perché uno mi stupisce la la terribile attualità di questa canzone nel senso che potresti scriverci sopra 2021 e non cambierebbe niente e due perché dico cacchio queste sono le canzoni che piacciono a me grazie queste sono le canzoni cioè davvero che toccano temi profondi che hanno una storia non racconto dietro e tanta roba davvero sai che mentre sto ascoltando queste canzoni qua realizzo che mi hanno chiaramente influenzato cioè certe frasi certe cose che ha detto io posso averle riciclate involontariamente perché fanno parte un po' del patrimonio culturale e forse è per questo che io faccio la musica nella maniera in cui la faccio perché sia i rapper di seconda generazione che rapper italiani a quei tempi parlavano di certe cose un'altra canzone un altro artista nel quale ad un certo punto mi sono identificato anzi forse uno dei primi artisti che hanno che ha avuto un certo successo che ha avuto è un contratto in major è Amir Issa e lui ha fatto una canzone intitolata 5 del mattino e quando è uscita per me era troppo attuale perché anche io ho vissuto le stesse esperienze infatti Amir ci ha mandato un contributo ora sentiamo il suo contributo e sentiamo anche 5 del mattino arrivò il 2006 e firmai il mio primo contratto con una major la virgin che lanciò il mio disco uomo di prestigio a livello nazionale quello posso considerarlo il primo disco in cui iniziai a raccontare la mia vita personale precedentemente già avevo rappato con tanti gruppi della scena italiana e anche della scena romana ovviamente colle del fomento sono presente nel disco scienza doppia h cor veleno gente guasta facevo parte della scena hip hop nazionale ma in quel disco iniziai a raccontare la realtà dei ragazzi di seconda generazione di chi nasce in italia da genitori stranieri e viene continuamente discriminato e quello fu l'album che ha dato la spinta a tutto il mio percorso quindi oggi scrivo queste cose le racconto nei libri vado a fare conferenze e quello posso considerarlo il classico della mia discografia che mi ha portato fino a qui amirissa questo era 5 del mattino di amirissa sai che quasi mi sento un po' commosso io a sentire questa canzone qua perché mi ricorda per me personalmente una delle esperienze più umilianti della mia vita che ho cercato di rimuovere di cancellare lui parla di cioè dei poliziotti che vengono in casa sua per fare una retata io non mi dimenticherò mai il giorno era tipo il 13 settembre del 2001 dopo gli attentati alle torri gemelle io abitavo in questo quartiere qua che si chiama i cinque continenti e in questo quartiere 95 per cento delle persone che ci abitavano erano stranieri ok ci sono stati gli attentati in america e per qualche strana ragione due giorni dopo c'è stata una retata esagerata delle della polizia dei carabinieri che sono venuti nel nostro palazzo in tutti i palazzi di quel quartiere lì e si sono messi a bussare alle 5 del mattino proprio e chi non chi non c'era gli sfondavano la porta e stavano lì perquisendo le persone perché erano la ricerca dei terroristi però nel mio quartiere chiaramente c'erano gli spazzatori e persone che facevano brutte cose però gran parte delle altre persone erano delle famiglie come la mia famiglia no e pensa questo cioè io dormivo con i miei fratelli così e di mattina presto sentiamo i poliziotti che cominciano a bussare come se noi avessimo fatto qualcosa e la cosa più triste in assoluto è che non mi dimenticherò che hanno cominciato a portare via certe persone amici di famiglia parenti certe persone sono state rimpatriate così a caso perché erano alla ricerca dei terroristi e la cosa più fastidiosa che ho vissuto è che però gli spazzatori poi i magrebini così che abitavano lì che sapevamo che erano tutti spazzatori dopo qualche settimana loro erano liberi lì nel quartiere e invece avevamo delle persone che magari non avevano i documenti però io voglio che la gente sappia sempre che non avere i documenti non è una scelta cioè se uno nasce in Italia e ha i documenti per stare in Italia è un privilegio però se uno vuole scappare dal proprio paese perché c'è la guerra o è perseguitato trova qualsiasi modo per farlo e ancora una volta mi viene da dire che è vero è scioccante come queste canzoni qua possano toccare il cuore delle persone maggiormente e rispetto a mir che ha il coraggio di fare canzoni su questo argomento qua perché io per quanto mi piace comunicare certe esperienze negative che mi hanno traumatizzato non le racconto me le tengo per me perché cerchi di rimuoverle mentre raccontarle in una canzone vuol dire metterle nero su bianco in un certo senso doverla affrontare totalmente totalmente quindi cioè io mi ricordo questa canzone qua è uscita che avevo 15 anni però era qualche anno dopo che mi era accaduta questa esperienza qua e per me è uno dei miei classici del rap italiano a livello generale anche se non è di seconda generazione cioè nel senso al di là degli artisti di seconda generazione infatti ringrazio Amir per il suo contributo ma soprattutto per avere fatto questa canzone qua oh però ora alziamo i toni se no depressione ci abbracciamo e piangiamo insieme no la prossima canzone che sentiremo è molto più leggera è di un artista che io ho conosciuto intorno al 2006 si chiamava matt ernegretto viene da roma ha fatto sta canzone intitolata troppi equivoci ernegretto e questo era matt ernegretto troppi equivoci ti vedevo presa bene anche qua sì sì poi stavo riflettendo su sta roba allora lui si chiama matt ernegretto dove in un certo senso tu inizia a vedere un pochino chi è lui no perché er è tipico proprio della zona di roma negretto ti fa capire che magari poi inizia ad ascoltare la canzone senti però mi piace perché praticamente è chi è lui no quindi origini di dove originare non ho idea io purtroppo ho sentito sta canzone e basta di questo artista qua però ricordo che girava un tot questa canzone qua e non l'ho più sentito in giro però mi ricordo che spaccava ed era inserito nella scena e aveva fatto un po' di feed con altre persone però comunque da questo capisci che presumo abbia comunque sia afrodiscendente certo certo però poi proprio ti canta il romanaccio no che è un pochino la stessa cosa che ho provato quando ho ascoltato per la prima volta j lord che tu lo vedi e poi lo ascolti ed è lui no è quello che siamo noi quindi origini di un posto ma poi anch'io mi dicono che ho l'accento un pochino milanese cioè insomma sei milanese doc sei la più milanese sei la più milanese che io conosca eh addirittura ora voglio mettere il pezzo di questo artista qua che si chiama Binighetto e a quanto pare parlando a vari ragazzi sai che a Milano c'è una vasta comunità eritrea no? ed etiope sì 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 parlando a vari ragazzi della comunità etiope mi spiegavano che intorno al 2005-2006 questo Binighetto andava in giro e faceva il culo a tutte le persone in freestyle e tra l'altro lui ha fatto un mixtape intitolato sai come? Afroitaliano nooo giuro quindi tu hai plagiato Binighetto no 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 cioè tu l'hai plagiato ma ti fai bene ragazzi ascoltatori abbiamo avuto uno scoop sapete la canzone Afroitaliano? beh l'ha presa da lì hai capito Tom? oggi proprio stiamo scoprendo un sacco di cose rapper ipocrita che plagia le persone degli altri no vabbè ha fatto un mixtape intitolato Afroitaliano sentendo la sua musica realizzerai che il nostro stile è un po' diverso però è uno che pompa le rime e spacca e anche qua avrei voluto che ci fosse un proseguimento a volte mi domanda cos'è che ha affermato tutti i miei fratelli dall'affermarsi veramente in questa scena qua senti Binighetto e questo era Binighetto sai che cosa vorrei contestualizzare questo discorso qua perché una delle persone al quale ho parlato mentre preparavo questa puntata è questo Khaled qua che è un ragazzo eritreo che gestisce la piattaforma Real Talk lui ha sempre fatto parte della scena rap sin dai tempi dagli anni 90 e mi spiegava questo discorso qua che paradossalmente una delle ragioni per il quale una persona come Binighetto poteva non spaccare così tanto nella scena hip hop italiana di quei tempi è questo ragionamento qua semplice ecco anche io l'ho vissuta personalmente io Tommy no avevo la mia passione per il rap italiano rap italiano tutti questi testi conscious cose del genere no e poi dall'altra parte c'era l'universo della musica black proprio hip hop andare alle serate hip hop e ballare G unit così no però per moltissimo tempo queste due cose erano due realtà separate secondo me sono rimaste due realtà separate fino a recentemente quando ti ho detto che poi Maruego ha incominciato con cioccolata e quindi il rap italiano è entrato nelle discoteche e spesso e volentieri molti di questi artisti magari neri che facevano questa roba qua negli anni passati erano più legati all'universo club in all'universo non voglio dire tamarro però all'universo delle serate che era totalmente un'altra cosa rispetto alle serate hip hop perché ti confesso io ricordo questa cosa qua cioè andavo alle jam di rap italiano non c'erano fighe posso dirlo fighe ma di solito proponi canzoni dove viene detto ogni 4 per 5 non c'erano tipe posso dirlo scusa non c'erano tipe era quasi una cosa da secchioni il rap italiano fino ad un certo punto e quindi forse anche per quello che non aveva un appeal così così nazional popolare no e paradossalmente Khaled mi ha detto Tom io ci tengo che tu dica questa cosa qua ai tempi ai tempi succedeva che molti ragazzi di seconda generazione erano più legati alle serate hip hop agli eventi dove la gente andava a ballare e a divertirsi perché consideravano un po' quasi da loser la cosa del rap italiano che andavamo a questi jam qua a spararci le rime mi ricordo che la mia tipa di tipo 10 anni fa quando andavo alle jam diceva Tommy ma voi tu e i tuoi amici rapper siete così presi da sta cosa del rap che potrebbero passare qua tre ragazze fighissime non ve ne accorgereste perché siete lì immersi a fare le vostre rime nel parcheggio e ti giuro che era così e paradossalmente cioè come diceva anche Drey Love nell'audio di prima ha citato questo Mohammed qua e Mohammed è stato tra i primi a creare le serate hip hop dove piano piano i rapper italiani hanno cominciato a lasciare un po' la cosa nerd del rap italiano a dire ah ma belle le serate hip hop belle le sister belle e questo ha permesso di portare a livello commerciale la scena rap italiana sì dalla nicchia al mainstream sì ma anche perché c'è stato proprio lo scambio tra i ragazzi che dicono ok mi piace il rap però sono Q vieni qua impara la coolness questa cosa qua vedi allora torniamo al discorso che abbiamo fatto prima che alla fine è lo scambio che porta poi alla nascita di cose totalmente effettivamente totalmente cioè se io sto nel mio e tu stai nel tuo magari io nel mio spacco davvero però sono nel mio eh sì quindi infatti per esempio anche lì Drey Love mi diceva che lui ed altri artisti americani che stavano qua in Italia all'inizio degli anni 90 sono stati loro a invogliare a spingere i rapper italiani ad uscire dal loro discorso posse centro sociale tipo ma questa roba qua è anche business se la sai fare bene è music business quindi facciamola non è solo farsi le rime insultare lo stato e cose del genere questo a questo punto qua siccome ho scelto un sacco di canzoni volevo passare il testimone a te volevo che tu mi indicassi me l'hai già detto prima me l'hai mandato per messaggio mi indicassi la prima la tua prima canzone la tua prima esperienza di rap italiano cosa cosa hai ascoltato per primo rap italiano delle seconde generazioni vuoi dire allora la mia prima esperienza risale più o meno al 2012 e li ho in realtà trovati per caso era un periodo della mia vita in cui frequentavo particolarmente Torino e lì ho scoperto quelli che all'epoca si chiamavano gli Extra dove avevamo appunto Milo e i Dizzy Noise e la prima canzone che ho ascoltato è stata Rap a Colori e mi ricordo che quando l'ho ascoltata al di là della canzone ero davvero contenta per una sorta di rappresentanza perché fino a quel momento ascoltavo ascoltavo Gue ascoltavo Mondo Marcio ascoltavo Marrakesh tanta roba però lì ho iniziato a sentirmi un pochino rappresentata e da lì poi diciamo che li ho seguiti musicalmente poi ho ampliato un pochino i miei orizzonti poi dagli Extra si è passata all'Extra Team e poi vabbè ok ora ieri ho sentito Easy Noise e gli ho detto oh commenta raccontami cosa è successo agli Extra e quindi mi ha mandato un piccolo contributo audio anche Easy Noise saluto Easy Noise è bella lì il progetto iniziale era quello di fare un collettivo di tanti artisti seconda generazione eccetera poi però per come dire immaturità eccetera e diverse mentalità poi eravamo anche molto inesperti ai tempi non abbiamo potuto portare avanti il progetto però diciamo che era un inizio sai quando uno prova a fare un qualcosa che ancora nessuno ha fatto e in un periodo dove sai tutti ti guardano strano questo è però buon penso che comunque è servito a livello di servito a livello di esperienza eccetera e buon questo ti posso dire mamma mia mi sono appena fatto il film di te tre di cenne bimba minca nella tua stanza che ti canti le canzoni degli Extra si lo ammetto anche se questa qua non era rap a colori ma era fratelli d'Italia perdonami mia colpa no vabbè bella uguale bellissima per me non c'è problema però si è un viaggio è un viaggio cioè sì cioè interessante come cosa poi cos'è successo è la trap cos'è cos'è successo poi che le persone hanno smesso di raccontare storie vero e si è passati a oh la tua tipa bravo bravo la mia Ken ti faccio il culo allora tu mi stai dando ragione quindi questa puntata in questa puntata Tommy mi sta dando ragione ma no non lo metto in dubbio cioè cioè cosa posso fare se il 90% della roba che ascolto di questi ragazzi è quello non lo so a meno che metal solo eh sì questo è un appello allora a tutti i rapper di oggi stacchiamoci dalla tua tipa raccontiamo più qualcos'altro no? ma sì ma anche perché è qualcosa che poi dieci anni dopo l'ascolta e dici minchia e dici mi è rimasto mi è rimasto nel cuore infatti sai che ascoltando questi pezzi qua di la squadra così in generale tutti questi artisti qua ho cominciato a farmi meno pare per quanto riguarda il successo commerciale che una canzone deve avere ti spiego perché a volte sei lì devi farlo uscire e dici eh vorrei cazzo vorrei che questa canzone diventasse una hit e spaccasse il tuo obiettivo cioè ammettiamolo ogni artista vuole diventare conosciuto e ricco grazie alla propria musica però ti dirò cioè il fatto che io dieci anni dopo quindici anni dopo metta queste queste canzoni qua in queste playlist e stiamo qua ad apprezzarle vuol dire che la musica non ha non ha età cioè se è bella è bella è bella è bella e basta cioè e quindi raga l'appello è facciamo buona musica se è bella è bella è bella e basta la prossima canzone che sto per mettere è impazzisco di Johnny Marsiglia la ragione per il quale sto per mettere sta canzone è questa io l'ho sempre amata cioè la strofa di questa canzone qua la so tipo a memoria e non sai quante volte mi sono messo lì davanti allo specchio rappandola tutta no? però io in vari momenti ho realizzato che questa stessa cosa qua che io ho questo stesso amore passione che io ho per questa strofa ce l'hanno un sacco di altri ragazzi neri tipo una volta ero con Antonio Di Chele Di Stefano Gali così è partita sta canzone mi sono reso conto che anche loro sapevano ogni singola barra di sta canzone a volte sono con i miei soci di equip e parte sta canzone e tutti sappiamo ogni singola strofa non so perché quasi si può dire che questa qua è una specie di classico per i ragazzi afro italiani della mia generazione tentiamolo che giaia non so che cosa ha fatto ma quando sento sta strofa succede qualcosa di chimico nel mio cuore te lo giuro nella mia persona sono lì tipo il tuo corpo rilascia dopamina è quello è una cosa scientificamente spiegata grazie Johnny Marsiglia per aver fatto sta canzone e per rilassare dopamina ogni volta che l'ascolto non lo so mi piace mi piace proprio ci sono quei pezzi lì che ti piacciono in una maniera esagerata sì perché dici così ti voglio con gli extra davvero sì però no vabbè gli extra spaccano e anche Johnny spacca e sì per me questo è un fucking classico della scena rap italiana italiana così no mi dispiace ma stiamo per giungere al termine di questa puntata qua per chiudere questa puntata ho pensato di inserire secondo me un artista che è un'ottima continuità tra questa roba qua del passato e la modernità che c'è adesso perché giustamente posso dire è giovane a 16 17 anni anzi 16 anni come si intitola la canzone che stiamo per andare a sentire però io credo che questo ragazzo qua racconti una storia sincera al di fuori del cliché e io spero che la gente continui ad ispirarsi a lui a fare la musica col concetto di essere se stessi e di raccontare la propria storia perché è la cosa che io più amo in assoluto quindi ora sentiremo 16 di J Lord e prima di sentire la canzone sentiremo un estratto di una sua intervista che ha fatto per TRX che secondo me era utile per contestualizzare tutto questo quando si parla del Ghana per me si parla della mia vita quotidiana perché io vivo ogni giorno il suono del paese l'odore dei pranzi tradizionali che prepara mia madre quindi per me il Ghana non se ne è mai andato anche se non ho vissuto lì e sempre parlando di queste cose che magari il Ghana mi dà associo l'Africa a Napoli per il sorriso della gente per la voglia di fare e di raggiungere i propri obiettivi e poi l'Africa e l'Italia sono il posto dove io cioè la mia base è Napoli quindi sono lì questa canzone qua nel video di Youtube questa scena in cui la sua madre ganese sta lì a pregare per lui e per me è la cosa più real che io abbia mai visto perché capisco direi di essere real facendo vedere i tuoi soci cattivi così però vedere la tua mamma africana che sta pregando per te quando l'ho vista ho detto wow coraggioso sto ragazzo perché spesso e volentieri noi ragazzi nati e cresciuti qua però con origini straniere abbiamo quasi la cosa che ci vergogniamo del nostro essere così africani così credenti così invece è lui che lo lo prende lo spiattella e lo mette in pubblico al pubblico cioè lo fa conoscere al pubblico lontano dai cliché dell'essere un americano o di essere un inglese o un francese non l'ho davvero rispettato sì assolutamente è lui questo è lui e anche il fatto a parte che mi sono rivista un sacco nel dire io sono Napoli ma io sono anche il Ghana no? anche se non ci sono stato però è questo quello che sono io e alla fine lui racconta chi è fa vedere chi è e io credo che a lungo andare sia quello che paghi perché se tu a un certo punto vuoi fare il guest ok fai il guest sì la mia tipa ti sparo eccetera però poi arriva un punto in cui tu non riesci più a sostenere l'immagine che ti sei costruito eh sì mentre se sei tu cosa devi sostenere? semplicemente se tu ti racconti per quello che sei e avrai sempre qualcosa da raccontare mentre se racconti una realtà artefatta dopo un po' poi le storie finiscono poi non a caso dicono che nonostante vada di moda tutto sto rap demenziale così gli artisti che comunque hanno veramente successo in America sono Kendrick Lamar J. Cole persone che raccontano storie in Italia Marrakesh ha spaccato l'anno scorso nonostante tutti i trap siamo giunti al termine di questa puntata io ci tengo a specificare questa cosa qua io ho scelto delle persone che personalmente la mia vita mi ha portato a conoscere per varie ragioni però sono certo che là fuori ci sono un sacco un'infinità di mille altri talenti afroitaliani ragazzi neri ragazzi di ogni paese che hanno contribuito a far crescere l'hip hop italiano che io magari personalmente non conosco o che conosco ma non ho inserito in questa playlist voglio che la gente sappia che non vuol dire che quello che hanno fatto non conta semplicemente potevo inserire solo queste canzoni qua in questa playlist secondo me è stata una puntata bellissima abbiamo celebrato un pochino quello che è il Black History Month ovvero il mese della storia è partito come la storia degli afroamericani ma ovviamente poi si celebra ad oggi in tutto il mondo e anche in Italia ci tengo a precisare che a Firenze in tutto il mese di febbraio è proprio dedicato al Black History Month infatti c'è non so se posso dirlo ma io lo dico vi faccio uno spoiler Tommy ha partecipato proprio a un evento per il Black History Month e tanta roba tanta roba è bellissimo vedere come in realtà quando magari io bevevo ancora il latte con i Plasmon c'era tutto questo voglio cogliere però l'occasione per dirvi che continuiamo continuiamo il nostro viaggio all'interno del rap delle seconde generazioni oggi in Italia oggi ed è per questo che se avete dei pezzi che secondo voi spaccano se voi pensate di essere o meglio se voi siete dei rapper di seconde generazioni volete entrare a far parte del programma potete mandarci una mail a 2grap.trxradio chioccelagmail.com bella lì ciao ciao